Il settore del risparmio gestito in Italia è molto grande, è cresciuto moltissimo e guadagna tantissimi soldi. Basta guardare i risultati delle banche e quanta parte deriva proprio dalla gestione del risparmio. Chiunque abbia avuto molto successo con certe regole del gioco, quando queste regole cambiano, prima di tutto cerca di guardare come evitare che venga messo in crisi il suo modello e dopo accetterà modelli nuovi, ma è un passaggio inevitabile, è solo questione di tempo.